Maschera illuminante all'avocado È così profumata che potresti mangiarla Sheila, aspetta! Manca ancora il massaggio con le pietre calde Perché vuole andarsene? È stupendo passare un giorno alla spa A quanto pare sembra che alle mosche non piacciono le stesse cose degli umani Ehi! Esci subito da quel frullato di broccoli e proteine d'alga che Laila ha lasciato lì settimana scorsa Ma non hai ancora capito? A lei piacciono le cose disgustose Davvero? Già, a quanto pare è così Puoi rendere eccezionale la sua vita portandola nel secchio dei pannolini di Paxton E io posso tornare... I pannolini no, Sunny Credo di avere un'idea migliore Perché i miei tengono l'umido qui? Non è l'umido, è concime C'è una mosca! La sento! Oh no! Mio padre! Vieni con me se vuoi sopravvivere O meglio vivere la tua breve vita che io sto rendendo Smettila! Mi spiace Ma io odio le mosche Mi spiace Grazie a tutti.